Nei capitoli 7, 12 e 82 della sua autobiografia Otto parla delle sale migliori della città Ma queste quattro sono le sue preferite Ottimo! Dividiamoci in quattro gruppi e andiamo a controllare Scusa, capitolo 82? Quanto è lungo il libro? Lui ha un po' prolesso Roberts della West Coast, andate in questa sala Roberts della East Coast, in questa Io e Brooklyn andiamo qui e Rafa, questa è tutta tua Va bene, e passo a prendere anche Easy, non vorrà perdersi questa avventura L'operazione consegna demo Comincia ora! Salve, c'è per caso Otto Phoenix? È passato questa mattina, ma se ne è andato ore fa Salve, Otto Phoenix è qui? Ha chiesto se Otto Phoenix è qui Mi dispiace, non c'è È passato poco fa, ma se ne è andato Grazie Cosa c'è? Stiamo cercando Otto Phoenix, per caso sa dove si trova? No! Non credo che sia qui Oh, salve, stiamo cercando Otto Phoenix, è qui? Sì Perfetto, dobbiamo proprio parlare con lui, facciamo subito Non si entra senza appuntamento Non ce ne andremo No, aspetteremo che Otto esca da lì